La cultura dell'audiovisivo oggi è predominante nel mondo della comunicazione, grazie al web, YouTube e quant'altro. E quindi è una cultura giovane, è una cultura che probabilmente è nata 15 anni fa, quindi quasi coeva di questo concorso. Gli interpreti sono tutti molto giovani e quindi il loro contatto con le aziende secondo me può essere anche una fecondazione piacevole. Penso, e lo diceva prima anche il professor Canova, a circa l'85% delle nostre aziende che sono tutte piccole e medie imprese, che sono bravissime nel loro fare ma che non si sanno assolutamente raccontare. Quindi sono carenti da un punto di vista di comunicazione e credo che Muvia Co sia veramente un'opportunità per loro a un costo accettabile di farsi conoscere addirittura worldwide. Così come d'altro canto, lo abbiamo detto già, per i giovani è un'opportunità unica, per quello che consiste proprio nel poter vivere dall'interno, vedere la realtà quotidiana di un'azienda, potersi inserire, non dico permanentemente ma comunque vedere dall'interno come funzionano le cose, quindi una conoscenza e un orientamento nel loro percorso diciamo di formazione che dà l'opportunità di agire sul campo. A Solombarda ha istituito un premio per il videomaker emergente che aspetterà naturalmente la giuria a scegliere che siamo curiosissimi a dicembre quando ci saranno i risultati.